giù dal ponte uso ma purtroppo ho fatto una salita di soli ci ho messo 15 minuti e 20 23 non è un gran bel tempo comunque però c'è il 9 7 20 21 22 forse ne ho fatti 3 8 però non mi ricordo sono al 31 ho già fatto 20 chilometri ciao